Ad urlare parole, paroloni, parolacce ai danni della Jaguar Yokota che è riuscita a risalire almeno sul bordo del ring, ora è sul ring quindi il conteggio è stato sospeso e l'incontro come vedete continua con questi calciacci di pianta che Jaguar Yokota sta propinando all'articolazione destra della Peggy Lee che sembra essere rimasta incastrata col proprio peso, era rimasta incastrata come avete potuto vedere tra le corde e Jaguar Yokota ne profita immediatamente per andare in chiave articolare all'articolazione inferiore destra della Peggy Lee e bloccarla in questa figura mentre la Peggy Lee sta tentando di mordere probabilmente, si aveva tentato prima di mordere poi con una presa